Ciao a tutti, che dire dopo quest'ultima avanzata di carro del togliere il conteggio delle ore di servizio dei proclamatori mi sembra un po' più evidente forse il piano aziendale di questa società americana molto ben abilmente travestita da culto religioso che sta scegliendo un profilo basso per probabilmente uscire lentamente di scena. Cosa intendo dire? Beh, è ovvio che questo fatto ormai era diventato una specie di farsa tanta gente faceva finta di segnare ore ma il calo da parte di chi deve conteggiare queste ore risulta evidente ormai risultava fin troppo evidente, non per tutti i testimoni di Geova ma per chi ha il polso della situazione allora abilmente hanno pensato di mantenere il conteggio delle ore dei pionieri perché togliere del tutto questa pratica di segnare le ore come fa qualsiasi venditore di elettrodomestici di Folletto per esempio, ormai pratica del tutto antiscrutturale non poteva essere così d'amblè tolta del tutto ma sta creando già molto malcontento perché adesso arrivare a dire come ha detto Mr. Heard nel suo comunicato dicendo la nostra predicazione è ben più che un impiego di ore, un conteggio di ore se questa risposta fosse stata data da tutti i programmatori che sono stati ripresi nel corso del tempo proprio sul conteggio di ore, ma tu ami Geova, quante ore fai? Puoi fare di più? Puoi fare di più? quindi da una parte si dice che non farà distinzione Geova fra chi fa molte ore e chi non magari non conteggia neanche le ore perché Geova non si basa su queste cose perché sarebbe come fare la distinzione fra chi dà più denaro e chi dà meno denaro come si faceva con la decima però al tempo stesso poi dice vuoi stringere una buona relazione con Geova? devi dare del tuo, devi dare comunque anche del denaro non solo denaro ma anche del denaro è una contraddizione continua a mio avviso quello che adesso sta succedendo è che sicuramente pian pianino verrà tolto questo poi verrà tolto quell'altro poi a un certo punto si arriverà ad una assimilazione di questa organizzazione e a tutte le altre organizzazioni tele-evangeliche e quindi si annacquerà pian pianino il tutto fino a probabilmente forse a defilarsi i problemi giudiziari anche se la stragrande maggioranza dei testimoni di Geova non hanno appunto il pozzo di questa situazione stanno aumentando da qui anche la pressante richiesta di denaro perché gli avvocati costano che chi ne pensiate è così è così non lo potete pensare, non lo potete sapere perché a non vi informate e soprattutto vi dicono di non informarvi sulle cose ma basterebbe solo andare a cercare il sito della procura generale della Pensilvania dove il procuratore generale appunto sta informando sulla più grande indagine in corso sulla Torre di Guardia per conto riguardo alla pedofilia che ha già portato all'arresto di 14 testimoni di Geova solamente in Pensilvania questo è solamente un piccolo, tra virgolette, aspetto delle vicinde giudiziarie che comunque sta dovendo affrontare la Torre di Guardia mantenendo in atto delle cause che costano soldi quindi fatti questa domanda i miei soldi, il mio denaro, quelli che ancora stanno dando perché anche lì c'è stato un calo evidentemente nelle offerte che ha spinto anche alla risoluzione di questa ammontare fisso da stabilire in maniera ancora più incisiva rispetto al passato da dire calcolate la capacità contributiva di ogni congregazione e attenetevi a quella cifra mensilmente cioè mensilmente devono partire queste cifre da tutto il mondo non è una cifra, un tot a livello annuale che cercate di mantenere questa cifra ma evidentemente c'è proprio bisogno di un gettito costante mensile secondo quella che è la circolare che è stata diramata e via dicendo e poi la risoluzione che è stata approvata non con l'approvazione di tutti perché qualcuno ha anche provato ad alzare la manina perché questa roba assomiglia tanto ad una decima che avevano sempre detto insomma che non l'avrebbero fatta ma guardati tu prete che state calando come numero eccetera eccetera è vero ma grazie a Dio, grazie a Dio in che senso? nel senso che un vescovo già qualche tempo fa in Francia disse non mi preoccupo quante poche persone vengono a Messa ma mi preoccupo di come escono quelle fossero anche poche che ci vengono di come escono quelle che anche se fossero poche ci vengono a Messa Gesù l'ha detto quando il figlio dell'uomo tornerà troverà la fede sulla terra buona domenica a tutti carissimi grazie a tutti